Ora anche lei fluttuo nello spazio e dall'assù ci guarda e ammira il nostro piccolo pianeta azzurro, come il mio eroe, Sigmund Yen. Il paese che mia madre lasciò era un paese nel quale aveva creduto e che io ero riuscito a far sopravvivere fino al suo ultimo respiro. Un paese che nella realtà non era mai esistito, che per me rimarrà sempre legato a un paese la memoria di mia madre. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.